Modifiche alle modalità di reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, dia libera maggioranza del Consiglio regionale con 22 voti a favore, 6 contrari e 3 astenzioni. Approvata all'unanimità una mozione presentata da Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e Anna Paris del Partito Democratico per fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino per la Toscana. Coltano in Consiglio regionale il no alla base militare nel parco, tre mozioni approvate con voto unanime quella del Movimento 5 Stelle, a maggioranza una del PD e una d'Italia Viva. Il decreto legge misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR per l'efficienza della giustizia ha introdotto significative modifiche alle modalità di reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani ha illustrato in aula la proposta di legge spiegando che oggi la materia di organizzazione e di ordinamento degli uffici rientra nella competenza residuale della Regione. Dopo il dibattito la proposta di legge è stata approvata a maggioranza con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenzioni. Sono contento che la legge che era stata elaborata dalla prima Commissione presieduta da Giacomo Bugliani è venuta in Consiglio e è stata approvata sostanzialmente nelle stesse modalità con cui l'aveva approvata la Commissione. Questa consente di poter attingere per i direttori a figure che hanno maturato i loro requisiti, ovvero di posizioni esercitate a un livello dirigenziale per almeno 5 anni non solo nella Regione Comune, nella pubblica amministrazione ma anche laddove si è svolto funzioni di questa natura a livello universitario, a livello di magistratura, di Avvocatura Generale dello Stato insomma una capacità di allargare e rendere più flessibile quello che è l'attingere naturalmente con i requisiti dei 5 anni con funzioni di dirigente o di equipollenti per poter rivestire ruoli all'interno dell'amministrazione regionale. Su questa proposta di legge che ha un contenuto fortemente tecnico perché siamo comunque andati a toccare alcune norme che riguardano prettamente il pubblico impiego e nella fattispecie l'accesso alla qualifica di dirigente come anche quella di dipendenti a tempo determinato in realtà però nel contenuto e nella sostanza sono state recepite delle indicazioni per noi fondamentali il testo è uscito o migliorato è un testo che a livello di qualità legislativa sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione un testo che ha visto oggi in aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto diciamo in sospeso e che riguardava l'assunzione diciamo a discrezione della giunta per quanto riguarda diciamo gli autisti a servizio al di là di questo il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità la qualità della normazione per noi è essenziale per avere norme veramente efficaci e non discriminatorie si dà la possibilità alla giunta di assumere in incarico dirigenziali personalità e figure che abbiano dei requisiti ben precisi previsti appunto dentro la normativa nazionale dalla ricerca alla docenza universitaria ai procuratori e agli avvocati dello Stato fino alle cariche della magistratura e in questa legge poi abbiamo via via che è a invarianza di bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale come ben precisato nell'ultimo articolo abbiamo anche riprecisato alcune questioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro riguardo ai dirigenti e anche dato la possibilità entro limiti precisi come posto bene nel binario dal legislativo nel binario che il legislativo ci ha messo davanti con delle percentuali precise di esterni rispetto agli interni sia per quello sia per le figure relative agli staff della regione riguardo alle figure dei collaboratori come autista Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto su questa proposta di legge perché noi la ritenevamo un mero adeguamento normativo che la regione toscana doveva fare a una legge nazionale poi come sempre accade quando la regione deve adeguarsi alla norma nazionale ci finiscono dentro di tutto di più siamo finiti a parlare di autisti piuttosto che di dirigenti per le aziende partecipate alla regione quando in realtà bastava fare un adeguamento normativo motivo per il quale l'adeguamento normativo era doveroso quindi non aveva senso votare in maniera contraria ma non abbiamo nemmeno avallato una legge che doveva essere di 10 parole e è diventata di 4 pagine Monitoraggio periodico dell'economia regionale una task force dedicata a strategie per l'occupazione l'efficientamento energetico, l'agricoltura e per il sostegno ai più colpiti è questa in sintesi la ricetta proposta dal Consiglio regionale per fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino per la Toscana l'Aula ha infatti approvato con voto favorevole all'unanimità una mozione in materia presentata da Elisa Tozzi e Anna Paris la mozione impegna la Giunta a fornire al Consiglio un'informativa esaustiva e dettagliata sull'attuale stato dell'economia toscana e sull'impatto che si presume il conflitto internazionale possa avere sul tessuto produttivo toscano Nonostante tutti questi importanti provvedimenti del Governo chiediamo qualche cosa in più alla nostra Giunta la nostra Regione non si possono ne condividere e gli interventi più importanti è di prendere atto del grande lavoro che fa IRPET Toscana e abbiamo sentito il seminario che è stato proposto il convegno il 28 di aprile che ci propone una fotografia attuale della situazione quindi sulla base di questo continuo lavoro chiediamo alla Giunta lo farà sempre però più che mai considerare anche perché là ci sono anche i numeri del numero delle aziende in crisi nei vari settori quindi veramente un lavoro molto valido quindi cosa fare nello specifico per le realtà che sono a rischio e poi problemi di ampio respiro su cui chiediamo l'intervento il problema di intervenire sull'efficientamento energetico in tutti i campi perché oramai lo sappiamo questa guerra più che mai ci pone in prima linea il problema di muoverci sull'efficientamento energetico sul problema dell'energia non soltanto PNR più che mai accelerare Lo scopo della mozione era proprio quello di richiamare Regione Toscana in sinergia naturalmente con il Consiglio ad un ruolo attivo e quindi prima di tutto a una maggiore informazione anche periodica nei nostri confronti come organo consigliare proprio di quello che è l'impatto di ciò che sta accadendo sul tessuto socio-economico della Regione Toscana quindi questo è sicuramente importante monitorare ciò che sta accadendo dall'altro noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo pensiamo tutti quanti alla vicenda dell'allevatore delle quote latte c'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica il rapporto IRPET parla chiaro la Regione Toscana ha un 25% di autosufficienza energetica quindi anche sotto questo aspetto sia a livello nazionale ma anche regionale tanto si può fare penso alla geotermia ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico che sicuramente possono favorire a livello anche del settore agricolo ma diciamo l'autosufficienza la consiglia Toscana parla di temi importantissimi l'autosufficienza energetica la tutela della filiera agroalimentare le energie rinnovabili l'utilizzo delle energie rinnovabili in Toscana tutto molto bello e tutto molto utile noi abbiamo chiesto soltanto una cosa di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale perché tutto questo è attuabile la difesa della filiera corta dell'agroalimentare toscano il raggiungimento dell'autonomia energetica tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia insieme agli altri paesi europei perché il tema riguarda tutti riescono a ricontrattare il PNRR perché o nel PNRR si riesce a inserire anche per esempio il tema dell'autosufficienza energetica oppure questo resta un libro dei sogni abbiamo alcune perplessità riguardo alcune argomenti che appunto sono state argomentazioni che sono state sollevate riguardo l'impatto economico che in realtà in questo momento viene ben misurato da IRPET dobbiamo fare molta attenzione alle speculazioni sicuramente specialmente nel campo dell'energia e delle materie prime e bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti per i servizi per le materie compresa l'energia che ci servono di più nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato la struttura militare di coltano non si deve fare il consiglio regionale chiede un ripensamento e l'individuazione di soluzioni alternative da negoziare con il governo e le autorità militari l'aula ha approvato tre emozioni una del partito democratico primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli una di Italia Viva primo firmatario del capogruppo Stefano Scaramelli approvate entrambe a maggioranza una presentata dal Movimento 5 Stelle prima firmataria la capogruppo Rene Galletti approvata all'unanimità Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana riteniamo però in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi che questo intervento per l'impatto che produce sul territorio non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta e quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione Italia per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri fare un intervento importante ma bisogna decidere dove farlo come farlo passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione diciamo edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato promosso e qualificato si può condividere dove fare questo intervento meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale quindi siamo contrari bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento così come è stato presentato questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco il parco regionale il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti neanche alle istituzioni e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato quindi la bonifica di 5 ettari anche meno di un'ex stazione radar quindi l'irragionevolezza anche a fronte dei molti immobili dei molti edifici abbandonati nei dintorni è evidente pensiamo che proprio coinvolgendo il Comune di Pisa il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali uno quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale quale il Tuscania quale il GIS e quale il reparto dei carabinieri cenofili a cavallo quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possono essere stanziati a Pisa che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale rispetto al progetto iniziale